Va in archivio anche la quarta giornata di Luca Comics & Games, la prima delle quattro giornate in cui si è visto uno spiraglio di sole, quindi c'è stata una tregua del maltempo che in qualche modo, che sia stata pioggia, che sia stato vento, ha caratterizzato le prime tre giornate della manifestazione. Poi la pioggia è arrivata comunque nel pomeriggio con tanto di allerta arancione che dalla 20 di questa sera fino a domani cadrà ancora sulla provincia di Luca. Questo ha portato ovviamente il pubblico delle grandi occasioni anche perché questo era il giorno in cui erano stati venduti più biglietti, gli 80.000 da sold out, il massimo del tetto massimo dei biglietti vendibili nell'arco di una giornata e si è visto anche sia per le strade che negli stand che sono stati presi d'assalto dalla folla che si aspettava per questa edizione di Luca Comics & Games. Non ci sono stati grandissimi problemi dal punto di vista della logistica, i problemi si sono concentrati anche per la giornata di oggi nell'area sud, quindi nella parte di San Concordio a sud della stazione, sia per un po' di sosta selvaggia, sia per qualche problema di mobilità, sia per il classico problema per raggiungere in maniera più semplice possibile il Japan Palace che essendo al Polo Fiere, quindi essendo lontano dal fulcro della manifestazione, può essere raggiunto con navetta o con una lunga passeggiata a piedi che qualcuno si è dovuto sobbarcare, peraltro nel pomeriggio, nel caso anche sotto la pioggia. È stata comunque una giornata dei grandi eventi, anche quella di oggi, è stata la giornata della celebrazione dei 30 anni, di Magic the Gate Training con la visita guidata della mostra a Palazzo Arnolfini, è stata la giornata in cui è stato presentato in anteprima l'ultimo film di Maccio Capatonda, Il Migliore dei Mondi, quella giornata in cui tutti hanno potuto ingirare per la città e nei vari stand della manifestazione e vedere il meglio che è stato presentato dall'organizzazione di Luca Comics & Games. Una novità per la giornata di domani sarà quella che tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e non hanno potuto usufruirlo per la giornata di ieri, venerdì, 3 novembre, potranno entrare gratis e dovranno comunque presentarsi al Welcome Desk per ricevere il braccialetto. Oggi ovviamente, essendo stata la giornata senza Welcome Man Tempo, è stata una giornata caratterizzata dai cosplayer che oggi si hanno finalmente invaso sia le mura di Lucca che tutta la manifestazione in tutto l'arco della città facendo vedere i loro splendidi costumi. Domani arriverà il culmine perché domani alle 14 in San Francesco ci sarà il cosplay contest, cioè quelli che per un anno si sono preparati il meglio dei loro costumi, potranno esibirli, potranno concorrere al premio finale, non solo perché domani sarà anche quello e altri due eventi di spessore, la presentazione in anteprima del film di Ayao Miyazaki, il ragazzo e l'airone e la presentazione anche se in anteprima della serie tv di Rai Play, noi siamo leggenda. Abbiamo detto dei cosplay, abbiamo detto anche che la circolazione, nonostante l'allerta arancione, è ripresa normalmente anche quella dei treni perché oggi alle 12 è stata riaperta la circolazione di treni a Prato e Pristoia laddove si doveva passare da Pisa per arrivare in treno da Firenze a Lucca e questo ha agevolato e agevolerà l'arrivo di nuove presenze anche nella giornata di domenica, sempre tempo permettendo. Dopo questi ultimi eventi e dopo l'asta che si terrà domani pomeriggio alle 15.30 nel padiglione Carducci con tutte le produzioni che sono state realizzate nell'arco di questa edizione di Lucca Comics in Games che ne hanno messi all'asta per beneficenza, ci sarà la caccia all'ultimo affare di solito, le ultime ore sono a questo dedicate e magari qualcuno potrà anche approfittare di uno sconto di fine fiera dopo l'appuntamento sarà all'edizione 2024.